Aleksandar Tanasiewicz, te lo aspettavi che la differenza in gara 4 fosse una difesa di Birarelli e poi un bel muro di potche? Sì, quando si gioca, giocano partite così importanti, la differenza fa una palla sola. Loro hanno avuto un po' più fortuna a Trento, noi abbiamo un po' più fortuna qui a Perugia, adesso andiamo con la tranquillità a Trento, andiamo a vincere là dove non ha vinto nessuno, abbiamo perduto la stagione e questa è la bellezza, aspettavamo questa partita gara 5, siamo fatti per giocare queste partite e niente, io sono veramente tranquillo e lo so che andremo in finale. La palla che ha chiuso la partita, De Cecola l'ha data di nuovo a te, una palla scottante, una palla pesantissima, quella del 25-23, ci sono state anche proteste dalla parte avversaria, ma quella palla l'hai messa giù? Sì, come ho detto in intervista precedente, c'è la gente che diceva che non sappiamo chiudere le partite, che non sappiamo chiudere il set, ma com'è possibile che lo impariamo in dieci giorni? Allora, siamo tutti giocatori di altissimo livello, siamo giocatori che stanno lavorando veramente molto per vincere le partite importanti e vediamo a Trento se siamo fatti veramente da... se siamo fatti a vincere di andare nel finale.